Da livelli di intimità variabili, editrice zona, Genova, 2020. Aenne che parte. Devotamente t'accompagno con la borsa celeste donna balda e bella, che da balbi ti diparti, alla terra dei sogni orientali, col fardello sul cuore delle tue parole dipinte, così t'accarezzo il sorriso delle veglie romancere, del materno dovere e l'amicale supporto e la scolastica corvè. Insomma, ti scruto le misteriche cifre di questo viso per Giove così amorevole e chiaro. Ma che tremare d'ansia, insieme alle mani, il corpo minuto e tosto, di femmina in allerta, nella nodosa attesa, della lievata del flixbus, accarezziamo insieme, al tavolino scintillante, malinconico metallo e una menta verde, il tuo amorevole libro, incurata edizio, quasi come di una volta, che commenteremo a debito col sardo bulgaro guru, cui vergando vai appassionate righe di cabalistico affetto. Prima del viaggio, prima che vai lontana, prima che in questo bar da flixbus ti inghiotta il flusso, che una guancia ci congedi.